Buone notizie per le circoscrizioni giudiziarie di Sulmona, Vasto, Lanciano e Avezzano in seguito all'approvazione del testo in Commissione Giustizia. Non esistono certezze, ma quanto è stato approvato nel documento riapre di fatto i giochi sulla salvezza del Palazzo di Giustizia Cittadino. Il testo approvato oggi dalla Commissione di fatto impegna il Governo a ridiscutere la situazione dei Tribunali Abruzzesi fra tre anni, impedendo di fatto la chiusura a prescindere, sia ora che in futuro. Nel documento, per quanto riguarda la circoscrizione dell'Aquila, si fa riferimento al terremoto e ai danni, non solo strutturali, che ha provocato. In riferimento al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto, si legge nel documento, che differisce di tre anni l'efficacia delle disposizioni relative agli uffici giudiziari dell'Aquila e di Chieti, occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie e gli uffici giudiziari siti in l'Aquila, che sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, sono stati messi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post-sisma. Dopo la doverosa premessa sul sisma, segue un chiarimento tecnico sul posticipo di tre anni della chiusura dei Tribunali Minori e sull'impossibilità di effettuare oggi una diagnosi valutativa sulla situazione delle infrastrutture, dell'economia e della burocrazia, tali da stabilire chi deve vivere e chi deve morire. La legge delega 148 2011 ha previsto all'articolo 1,5 bis che in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei Tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni, si legge ancora nel documento sottoscritto dalla Commissione Giustizia. La predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo, in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni, che, fermo restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega, come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione, solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture. Per queste ragioni la Commissione esprime parere favorevole a condizione che il provvedimento sia modificato secondo tutte le indicazioni riportate, con particolare riferimento sia ai tribunali che alle sezioni distaccate.